Salve a tutti quanti, io sono Terenas e bentornati su The Witness Allora, me ne sono andato a esplorare super fuori per capire cosa implica questo maledetto affare Che è una cosa odiosissima Perché non mi... WTF, perché non mi si piega più di così? Perché non mi si piega più di così? Non posso guardare in basso! Perché? Cos'è successo? Aiuto! Non mi va a scendere... WTF, perché non mi fa guardare più in basso? Tipo totalmente random questa cosa Cioè prima potevo guardare tutte le direzioni, adesso non posso guardare così Perché sta roba? Beh, ok Allora, come dicevo, come dicevo, sono andato a vedere fuori nel deserto come si fanno queste cose Non è neanche tanto complicato In pratica questo simboletto significa che io posso ignorare una delle due cose Una delle due forme Quindi ad esempio, se facciamo questo così Come potete vedere quindi alla fine viene attivata la porzione Perché viene semplicemente disattivata la parte, una piccola parte Come ad esempio qua Se io volessi fare questa cosa Varei semplicemente così Così, viene disattivato quello là e quindi viene attivato quello là Perfetto, 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 magnifico Allora, 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 questo qua invece Aspetta un secondo Così, sì Viene escluso e quindi viene attivato quello E infine questo qua Che è quello un po' più Un panel di dietro Perché, maledizione a me Che cosa cavolo vado a scegliere queste sfide No, questo dovrebbe essere anche abbastanza facile in verità Così Lo disattivo Sono tutti e quattro attivati E quindi si attiva Ah, se ne attiva uno gigante Che bello E questo qua che cosa dovrei fare? What the fuck? Aspetta Oh mio Dio È uno di quelli simmetrici Cosa devo fare? Ah no, aspetta Wait, what? Cosa vuol dire? Aspetta, perché ci sono i simbolini che lampeggiano di rosso? Cioè, devo fare ognuna delle No, non puoi dirmi che devo fare ognuna delle forme Oh, Gesù Santissimo Stai scherzando? No, mi pigli per il culo? Non è possibile Come fai a farle? Aspetta, no Qua ci si deve ragionare per forza Ok, allora Ragioniamoci un attimo Quindi deve essere un cubo Due affarini Presumo che devo utilizzare i simboli quelli Quindi questo Questo Perché è della serie Combiniamone di più Perché ci divertiamo a far impazzire la gente Aspetta Oppure sono quelli esclusi Che devo Dannazione Allora, un cubo Una L Posso però combinarle come voglio Devo guardarlo qua da lontano Così che capisco bene Cazzarola Questa è veramente dura La cosa è che È difficile da capire se Io devo prendere questa parte qua Quella esclusa Oppure Come cavolo dovrei fare? Perché allora Se faccio un cubo farlo è impossibile Un cubo È effettivamente impossibile Con un coso a simmetria è impossibile Perché non riuscirai mai a chiudere il cubo Quindi non puoi permetterti di fare il cubo E allora quali parti devo prendere però? E questa è la cosa Non capisco Allora Qua ci sono una L Una L piccola Allora due L piccole Un cubo E una L grande Cazzo E qua E mo so cazzi E mo so veramente i cazzi Allora Ragioniamo un attimo Uno due tre Quattro e sette Uno due tre Quattro e sette Quindi sono comunque sette spazi a lato Ma se invece la sto pensando La sto pensando forse nel mondo sbagliato Nel senso che se lo chiudo Se chiudo un lato e l'altro Con delle forme da sette Che coincidono effettivamente con Ah oddio Aspetta Aspetta Forse non è così complicato come sembra Aspetta In pratica le forme che intendo Sono su quella Sono su questo là Sono sul lato questo qua Su quello più vicino al muro Che devo crearle E quindi non diventerebbe neanche troppo complicato Perché devo combinare le due forme Aspetta Quindi come faccio? Allora Se faccio così Aspetta Dovrebbe essere tipo Così Allora Ho un cubo su entrambi Perché ho combinato i due pezzi Del lato destro Per fare un cubo là sopra E qua sotto intanto ha fatto L'ondina Mentre invece quell'altro Semplicemente l'ho inserito Tutto insieme E infa Mamma mia Mamma mia Mamma mia Hype Stiamo quasi arrivando Uh Comincia a diventare creepy Salve Questo è un circuito Che non è stato completato Immagino Oh no Che palle Quanta Che Perché tutti sti casini Ci devono essere Allora Devo farli uno per volta Immagino Quindi sono Uno con le stelle Altro con punti neri E cose colorate Che bello Ah c'è C'è anche un limite temporale Nel farli Mi pigli per il culo No dai Mi pigli per il culo Quindi Ho anche del tempo limite Ok Allora Proviamo a risolverli A quanto pare c'è il ta Ma non sono uguali Oh cazza Rola Ehm Ok Questo è uno Questo qua invece No 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 ti prego Dimmi che non me lo cambi Vero che non me lo cambi Quello che l'ho risolto Cazzo Ti prego Dimmi che non me lo cambi Ok non me l'ha cambiato Quindi Ok 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 Allora Allora forza e coraggio Allora Ehm Oddio Oddio Come faccio Come faccio Come faccio Questo Ah non lo so Ah Non so come fare No eh vabbè Come facevo quello Con due forme verticali Dai Che bastardata era quella Ok 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 Subito ce n'è un altro Subito ce n'è un altro Ok forza e coraggio Ce la posso fare Ehm Allora Così No Questo si chiude così Ehm No Non ci Non aiuto No Non ce la faccio A farli così Velocemente Mi ci vuole del tempo Cos'è sta cosa Non è giusto Praticamente è un dito medio Oh mamma mia Ehm E si Ciao No vabbè No come cazzo fai A risolverlo Dai E' una presa per il culo E' una presa per il culo Diciamocelo Ok 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 Calma il sangue freddo No what Oh santa Eh vabbè Ciao Come fai Aspetta No No Ce l'ho quasi riuscito No Non è giusto Ce l'ho quasi riuscito Avevo capito Che palle Allora Aspetta Aspetta così Oh Si Vai Così Ah si sono chi richiusi Però ha aperto la porta Mamma mia Appena in tempo Che cosa cazzo è sta roba Ok Allora sono Ma sono fuori Sono fuori Sul lato Ma io non l'ho mai vista questo lato Cioè non l'ho mai vista questa cosa Ci sono anche passato accanto Vedete là Là è dove c'è la paludina del cazzo Cosa devo fare Oh mamma mia Che cos'è sta roba Allora aspetta No vabbè Ma è complicatissimo Cioè non è che c'è un muro in cui si conclude Allora aspetta No Quanto cazzo Dio che mind Che bello che è sto qua Ok Questo è fighissimo Ok devo separare i soli in due Questo qua è ancora più mind Mindfuck Cioè tipo devi prendere tutti i punti neri Che figo Aspetta Così In teoria così Poi così Così Eh questo non è troppo difficile Fuck Ok 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 Calma il sangue freddo No aspetta Così 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 Oh uno l'ho risolto Vai vai Questo non era difficile Ok Quindi sono Sono È abbastanza un mindfuck Perché devi abituarti al fatto che sono Sono delle colonne tonde queste Quindi È complicatino Diciamo Più che altro devi avere una buona memoria Per ricordarti dove cazzo sono tutti i singoli pezzi Che bastardata questa però eh Allora Qua escludiamo i neri Così Allora Poi Aspetta Qua c'è un bianco Quindi no Devo chiudere prima Il bianco fuori Che è una cosa orribile da dire Però è così Ah no aspetta Ci sono i Allora aspetta Allora Allora Con calma Con calma Questi li escludiamo così Questo Lo escludiamo Così No 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 C'è qualcosa Questo va un attimo ragionato È un po' più complicato Allora Questo qua per forza Uno Due Questo qua per forza così E Questo qua così Così li ho rinchiusi questi qua Ok ok Questo è Questo ragionamento fino a qua è giusto Poi Proviamo Ad andare subito verso l'alto Che qua ci sarebbe la soluzione Invece No di là non posso andare Quindi mi tocca per forza di cose andare a destra Allora no Ho provato una soluzione Ma non andava Allora Così Così Vai così Forza cazzo No questo con i pezzi del tetris Ma mi pigli per il culo vecchio È una malattia mentale questa Come cazzo ti viene in mente What the fuck E come fai a farlo questo Ah no Per forza di cose devi farlo così Allora Questo invece Questo non è difficilissimo Allora aspetta Così Così Eh questo non era difficile Dai Questo era facile Questo era facile Questo qua invece è Oh mamma mia Ci sono C'è una coppia di soli I bianchi e i neri Questo è un po' palloso Eh Questo è stato un po' stronzo Allora 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 Cazzarola Cazzarola Questo è un mind trip Più che altro perché Devi ricordarti i punti Di ogni singola cosa Allora Aspetta Oh cazzo No aspetta Perché ci sono due punti No Non mi dire che è un No No Cos'è sta No vabbè Cos'è sta puttanata Vabbè È anche un cosa Asimmetria Oh Gesù santo Oh Gesù santissimo E vabbè Qua ci stai le ore Forza di cose Dritto su di due Perché devo separare Questi Vedete questi due Due neri E due bianchi Devo separarli Per forza di cose Quindi Andiamo su Posso girare A destra o a sinistra Proviamo a sinistra Però già la incrocio Così È un po' Tosta Aspetta Se invece di Fare così Utilizzassi questa Questa maniera Allora Qua devo per forza di cose Andare Se vado così No Così mi si chiude Maledizione Come cazzo si fa Oh mio dio Oh mio dio Ha funzionato Mamma mia Mamma mia Non ci credo Non ci credo Porca droia Ce l'ho fatta Ok 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 Quindi questo lato Di col Questo che cazzo è What the fuck Che cazzo è sta roba Cos'è mi mandate a mangiare Con gli squali Cos'è una piattaformina Tipo Cos'è Cosa diavolo è Sta roba Figo però Molto bello Ok 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 Dai forza e coraggio Questo qua con i due soli Allora Dovrò osservarlo per un po' Perché è un bel casino Questo Cioè più che altro La cosa mi sa che devo fare Tipo A cubotti A questa maniera Forse è già fatto così No cos'è che non andava bene Cos'è che Quali erano i due soli Che entravano a contatto Con gli altri Ma erano separati dagli altri In teoria O no Aspetta No questo Questi Questi soli sono separati così Questi soli sono separati Ah no perché entrano a contatto Attraverso quel lato Cazzarola è vero È vero è vero è vero No Entrano a contatto In quella maniera Ah porca Ah aspetta 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 Ma se io facessi una cosa Tipo No Così non posso farlo Allora Se io facessi Una cosa tipo Così No Alla stessa maniera Entrano a contatto Quei due Quindi non va bene Non va bene Maledizione Ok ci deve essere Una soluzione facile Aspetta ma semplicemente Se facessi così Tac No allora così Devo separarli per forza Questi No 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 Maledizione Devo trovare una cosa Che funzioni Però porca Allora se inizio con un cubo Per forza di cose Non ci riesco Quindi Proviamo a fare qualcosa Di strano Proviamo Come dovrei farlo Dovrei separarlo Per piani forse Nel senso che Vedete che ci sono 3 1 2 3 4 piani Quindi se li separo Per piani E poi divido le varie catene In teoria dovrebbe chiudersi Proviamo Proviamo Allora Ad esempio Devo Allora quanto è lungo Questo sono 7 Aspetta facciamo il conto 1 2 3 4 5 Ok no Sono 5 Quindi devo Aspetta Ok Quindi Proviamo a separarli Così In teoria Dovrebbero essere Separati Sì Sì Vedete Ognuno è stato diviso Ad un livello diverso Stiamo partendo Da questo livello Che li ha divisi qua Questo livello Che li ha divisi qua E questo livello Che li ha divisi qua sopra È proprio una divisione Proprio Per livelli È un po' Non so come spiegarlo Sembro stupido Oppure sembro pazzo Però io ce l'ho in testa In una maniera diversa E poi appare questo Eh Boh Sono strano io Perdonatemi Allora Guardiamolo questo Questi ci sono 3 punti esagonali neri Che devo prendere E devo tenere I 3 soli I 2 soli I 3 soli I 2 soli Insieme Mi è venuto a dire 3 sono stupido Allora Devo tenere I 2 soli Insieme Questo è il problema Perché vedete Qua sopra È spaccato Quindi non posso fare Una cosa semplice Anzi Tutto il contrario Non sarà per un canzo Facile Lo so già Allora Come ce l'ha ragionato In teoria In teoria Allora Per forza di cose Non posso andare a dritto Perché se no Già li separo Quindi devo andare O a destra O a sinistra Io Io tenderei a dire A destra Allora Devo tenerli uniti Quindi non posso mai Avvicinarmi troppo Al muro Fuck No Non so cosa fare Porca droga Non so davvero cosa fare Non mi viene in mente Così Sì Sì Sapete Ok 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 Finalmente Ce l'ho fatta Questo Ok Molto semplicemente Vedete la strada Che dovete fare In questo qua La strada che dovete fare È che dovete creare Una stradina Che unisca I due soli Fino in fondo A questa maniera In teoria Qua potevo anche Tenerlo dritto Cioè era molto swag E basta Cioè se facevo così Ah no però Non avrei preso quel punto Sono stupido No basta Potevo fare anche Vedissimo così Ah no però Se non li separavo È vero Sono stupido Madonna Ormai sono fuso A forza di fare Questi puzzle Dovevo per forza Tenere un lato sopra Che era libero Così che potevo fare La strada che univa Mamma mia Sono rincoglionito Perdonatemi Queste cose mi fanno Oh mamma mia Devo prendere tutti i punti neri Ma stai scherzando Aspetta Ah posso Ho due punti d'inizio Non è un di quelli Di quei puzzle No Ho tre punti d'inizio Bello Che cosa divertente Mamma mia Grazie Sono proprio felice Adesso devo testarli tutti Ma porca Allora Allora aspetta Proviamo È la cosa che ci sono Tutti gli angolini Del cazzo No ok Per di qua non posso andare Devo per forza di cose andare Allora qua Arrivo qui Ok quindi per forza di cose qua Quindi devo andare per forza di cose Fino a qui Forse riesco a farlo Alla prima tirata Oh No Ah no Mi sono dimenticato di quello Devo tornare indietro Fare così In pratica devo passare per tutti gli angolini del cazzo Per forza di cose Ok No Quindi così Così Aspetta E così Vai Vai cazzo Vai ce l'ho quasi fatta Mi manca questo E ho finito Non ci credo Ho finito Ho finito il gioco Se finisco questo puzzle Ho finito il gioco Questo cos'è? Ah infatti Immaginavo un coso di simmetria E devo prendere entrambi E ciao Porca troia Allora Così Boh Acab Ah c'è anche un punto là sotto Maledizione non l'avevo visto Mazza che du coglioni Allora Così No Così Così Cosa ho dimenticato a sto giro? Cosa ho dimenticato? Quale punto ho dimenticato? Eh no Ce n'è uno verticale qua Che palle Allora Se faccio così Semplicemente dovrei biccare Fuck No non li biccherò tutti così No è perché mi dimentico di quelli verticali così Non va bene Non va bene Non va bene Devo ripensare meglio Ok Sì Ce l'ho fatta Ce l'ho finalmente fatta Oh mio dio Oh mio dio ragazzi Voi non vi rendete conto Ma Questo qua è letteralmente La prima serie di un gioco Che ho completato fino alla fine E ovviamente io mi sono andato a scegliere il gioco più frustrante E fuori di testa di questo mondo Per fare una serie Per farmi impazzire per ore e ore e ore e ore E ora finisce È un po' una stranezza per me Quindi se io entro cosa succede? Ok Cosa devo fare? No 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 Cosa succede? Cosa succede? Perché non Perché non va? Ah Aspetta ok ok Ah pensavo di aver sbagliato qualcosa Ok ho chiuso le porte Presumo sia un ascensore Quindi Cos'è mi sto Ho paura a fare questa sequenza Stavo per annegare Cioè il coso è Prima Viene dall'acqua questo affare Non è che mi farai annegare Vero gioco Cioè questa è la Ragazzi sto per finire il mio primo gioco In Su youtube Ok Ok dove Ok Ok una stella All'alba Ok Cosa succede? Tipo Ascensore di cristallo Mi fa rivedere tutto quello che ho fatto Che bello Minchia voglio anch'io sta tecnologia però Non posso girarmi più di così Non sbaglio o sto perdendo pezzi? Ho paura Cosa? Qua si richiude Mi fa rivedere tutto quello che sono riuscito a fare Mi sa Che bello così vedre l'isola Una Una bolla In una corrente Ok È stra bello poter vedere l'isola così Mamma mia Mamma mia Quante cose Che abbiamo fatto E non le ho neanche fatte tutte Cioè ci rendiamo conto Se le facevo tutte Ho proprio tutte No questi li odiavo Questi li odiavo profondamente What the fuck Ma Cosa sono morto? Sono diventato un fantasma Che svolazza Cioè non ho neanche più la cosa attorno a me Aiuto? Eh Oh no Questo Questo era effettivamente Quello che faceva impazzire di più Per il semplice modo in cui questi si Mamma mia Quei soli li ho odiati Perché all'inizio erano frustranti e basta Poi li ho capiti E sono diventati solo noiosi Mamma mia Sta chiudendo tutti i laser Ok Un Un fulmine In una In una nuvola estiva Ok Sta chiudendo tutti i laser O sbaglio? Sì Sta chiudendo tutti i laser Perché questa cosa? Sì ormai È deciso Sono un fantasma Perché per il semplice fatto che sto passando attraverso cose e oggetti E questa cosa non ha senso Che bello che era questo Questo qua era quello che preferivo In assoluto Questo degli alberi Era bellissimo Perché qua si è richiuso? Si sta Eh si sta richiedendo tutte le cose Si stanno Irrisolvendo tutti i puzzle Questo cos'è? Questo non è Uh il lago Che bello Ah Ah una lampada che Lampeggia Scintilla Come fa questa qua? La città non l'ho mai guardata Perché tipo L'ho guardata all'inizio Poi ho detto No fuck di shit Non ci posso riuscire Erano tutte cose Combinate dagli altri Quindi No grazie Manco morto che mi ci mettevo Quello l'ho chiuso Ah questo era abbastanza noioso Quello nel 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 pes Come si dice? Nel Nel Nell'insieme di peschi Quelli là erano peschi Penso Di alberi Erano tutti rosa Quindi Non lo so Erano dei begli alberi rosa però Oh qua è dove ho imparato quelli paralleli Mamma mia Che mind trip E qua è dove ho iniziato Cioè fra poco è dove inizia tutto Qui c'è una roba a caso Un cadavere Un cadavere tra virgolette Non di una macchina È tipo Qua è dove c'è proprio l'inizio di tutto Cos'è? Mi riporti all'inizio e mi dici Ok ricomincia da capo Ah ok Adesso non posso neanche più muovere la visuale Ma siamo seri? Ma perché non posso muovere la visuale? Ok Ho visto Lisa È molto bella E mi riporta indietro No senti Un fantasma No mi stai sul serio riportando indietro All'inizio del tunnel? Cioè questo è il modo in cui finisce il gioco? No No ti prego No dai Devi darmi qualcosa di più Devi darmi qualcosa di più Per favore Non puoi rimettermi all'inizio del tunnel? No 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 Non lo accetto Non lo accetto Siamo tornati sul serio all'inizio del tunnel E questo è come finisce il gioco Stai scherzando? Dammi Ti prego Dimmi qualcosa Qual è l'inizio? No Cioè ho fatto tutta questa fatica per vedermi l'impacciata Ah ok puoi rifarlo No eh Un fantasma è un sogno quindi What? Si è chiuso il gioco Si è semplicemente chiuso il gioco What? Ma perché? Ma non ha senso Cioè la mia prima serie finisce letteralmente con il gioco che mi si chiude in faccia Mi sento un po' a disagio Giusto un pelino Beh Signore e signori È stato un piacere accompagnarvi in questo viaggio in The Witness È stato molto bello Anche se il finale onestamente Mi ha chiuso il gioco in faccia Grazie Che cosa devo dire Non lo so cosa devo dire Quindi Nulla Ci vediamo alla prossima serie Che non so che cosa sarà Perché dovrò deciderne un'altra E fatemi sapere nei commenti che cosa vorreste come serie Perché se hanno finita questa dovrò sostituirla con un'altra Quindi Questo è tutto quanto signori Io sono Terenas Bella Ciao 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 Ciao